Musica Allora ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono XTrader E oggi andremo a vedere come si crea un avanzamento su MC Creator Gli avanzamenti per quelli che non si ricordano sono quelli che un tempo erano gli achievement Cioè gli obiettivi di Minecraft Per crearne uno andiamo su add new element E scegliamo proprio la prima opzione, cioè l'avanzamento E mettiamo il nome del nostro avanzamento Per dire, noi vogliamo che quando il player craft una TNT ha questo avanzamento Quindi chiamiamola TNT Poi scegliamo un'icona per l'avanzamento Potrebbe andarci bene appunto una TNT Scriviamo il nome del nostro avanzamento per dire, scegliamo un nome simpatico Ho messo un nome, boh così a caso E poi una descrizione Che generalmente la descrizione ti spiega che cosa devi fare per ottenere quell'avanzamento Quindi E poi scegliamo se il nostro avanzamento è di tipo compito, obiettivo o challenge Noi per questo caso mettiamo appunto che è una task, un compito E poi scegliamo se legarlo a qualcos'altro Cioè a qualche altro avanzamento Per esempio leghiamolo a Vediamo A lava bucket così a caso E poi adesso non so che cosa servono le posizioni X e Y Anche perché non vanno a influire in alcun modo sull'avanzamento Quindi lasciamolo pure a 0,0 E andiamo invece a vedere come facciamo sì che il player ottenga un avanzamento Quindi facciamo save mode element E creiamo una procedura E chiamiamola Procedura TNT Adesso Dobbiamo mettere il trigger Cioè quando il player crafta una TNT Quindi andiamo in logic and loops E facciamo Se Ah ci facciamo una cosa Se il player ha una TNT Nell'inventario Allora Ha un avanzamento Che è appunto L'avanzamento TNT Però così Ha l'avanzamento Anche se Non ha quello prima Quindi facciamo una cosa Mettiamo E Quindi se Il player ha Nell'inventario un TNT E Deve avere anche l'avanzamento Procedente L'avanzamento Era fill Lava bucket Quindi Vediamo Durebbe essere Ecco Lava bucket Allora Ottiene l'avanzamento TNT Bene E questa qua È la procedura Per far si che Con un dato evento E Un'altra radice Il player Ottenga Un dato avanzamento Bene Fatto Spero che il video vi sia piaciuto Se avete domande O richieste O qualsiasi altra cosa Chiedete pure nei commenti O nel gruppo Telegram in descrizione Se volete restare Ragionati sul canale E sui prossimi tutorial Di MC Creator E i prossimi video Iscrivetevi Attivate la campanellina O entrate nel canale Telegram in descrizione Da eccedere tutto X-Radar Burn